Nel video di oggi parliamo nuovamente di Israele, cercando di inquadrare quali siano le novità sul campo e come effettivamente potrebbe mettersi uno dei conflitti potenzialmente più destabilizzanti per gli equilibri regionali e forse mondiali. A tal proposito cerchiamo anche di fare chiarezza sulla questione dei fondi europei alla Palestina, che se l'ha detto sarebbero stati bloccati, poi no, poi forse, quindi cerchiamo di capire anche quello, ma in particolare vorrei iniziare con un piccolo microscopico rant, con una lamentela. Che senso ha il mio lavoro? La filiera dell'informazione è molto complessa ed è fatta del lavoro di tantissime persone che bene o male in tutto il mondo, alle volte senza conoscersi o in aperta competizione tra loro, collaborano per raccontare delle cose e c'è chi poi si impegna a rendere quelle cose comprensibili, a dar loro contesto, interpretazione. E non è infatti un caso che nella giornata di oggi, che segue quella di lunedì, che mediaticamente è stata completamente assorbita dal racconto della guerra, sembra non stia succedendo molto altro. Ma non è che non succeda nient'altro, è che quelle cose oggi non si raccontano, perché tutti parlano della striscia di Gaza. Quindi torniamo alla mia domanda sul senso del mio lavoro, della mia esistenza, del mio tutto. Riportare con equilibrio quanto accade in un conflitto è estremamente complicato, non come in passato certamente, ma comunque difficile. E anche assorbire certe informazioni è difficile, è stancante, è ansiogeno. Se tante persone quindi, e vi metto tra queste, hanno sete di informazione, di capire e di sapere, tante altre rifungono per mille comprensibilissime ragioni l'idea di farsi ogni volta carico di tutti i problemi del mondo. E poi ci sono gli altri. Gli altri. Io è da sabato che leggo le opinioni facilone di tantissima gente, le opinioni complottiste, le stesse opinioni complottiste che ho visto durante l'invasione russa e dell'Ucraina, ma potenziate, visto che il tutto è aumentato dal fatto che parliamo di uno stato ebraico. E al popolo ebraico si legano, sin da prima del Medioevo, misteri, riti e oscuri complotti. Quindi non è vero nulla delle cose che si dicono, tranne le realtà alternative che vengono di volta in volta presentate e sulle quali un sacco di gente ci fa dei soldi. Ed è talvolta estenuante, perché poi sono realtà immuni, completamente respingenti a qualsiasi tipo di ragionamento, e alle volte è un po' pesante. Non perché io mi dia particolare importanza, vi spiego dove voglio arrivare. L'altro giorno parlavamo in grandi linee di come persino dietro ai test che sarebbero stati fatti negli Stati Uniti sui telefoni di tutti gli avvisi alla cittadinanza, intendo quelli per cui abbiamo fatti test anche noi, messaggi speciali che suonano e che le autorità possono attivare nel caso debbano avvisarvi di un'alluvione imminente. Quelle robe lì. Persino in quel caso erano emerse teorie del complotto, con persone convinte che questi avvisi avrebbero attivato chissà quali meccanismi bioingegneristici iniettati loro dai governi, o addirittura attivare il famoso grafene che sarebbe dovuto essere nei vaccini anti-covid. È proprio una narrazione alternativa delle cose, che mostra come una parte degli individui vive in una realtà parallela in cui si svegliano tutti i giorni, vanno al lavoro come noi, fanno la spesa come tutti noi, ma hanno deciso che la terra sia piatta, il cielo rosso e il governo sia fatto da vampiri che comprano e vendono a bambini. Non è una battuta, cioè, sono tante persone. Normalmente questa cosa farebbe ridere, a me perlomeno personalmente diverte tanto, a parte quando accadono drammi di portata estrema come quelli che abbiamo visto accadere e che affronteremo anche oggi. Ecco, l'idea che tantissimi non siano in grado di dare la giusta priorità alle cose, che non riusciamo a metterci d'accordo su quanto gravi siano certi gesti, non tanto perché non riusciamo ad empatizzarli, quanto perché li consideriamo giustificati da storie e film che ci siamo fatti nella testa, completamente avulsi dalla realtà, ecco, un pochino ti chiede perché ci prendiamo il peso del mondo sulle spalle? È un po' quella cosa lì, informarsi così tanto, prendersi come la sindrome di Atlantano, il peso del mondo sulle spalle, sentire di star remando in qualche modo verso una direzione, ma vedere che tantissimi remano nella direzione opposta. È chiaro quello che sto dicendo, no? Che fatica, che fatica. Piccola parentesi prima di proseguire che vi interesserà parecchio se state pensando di aprire la partita IVA o la avete già ma non riuscite troppo a starci dietro. Vi sto per parlare infatti di Fiscozen, il servizio online che vi offrirà un commercialista dedicato, una dashboard personale per gestire tutto ciò che riguarda la vostra attività, posto che stiamo parlando solo di partite IVA in regime profettario ordinario, è tutto nel grande classico, che sono i miei servizi preferiti, comodamente online. Nel senso che è evidente che le mie resistenze a perdere tempo nel traffico, a muovervi da punto A a punto B per fare una cosa, stiamo andando completamente fuori controllo. Mi spiego meglio, che voi abbiate già aperto la partita IVA o meno, potrete prenotare una consulenza gratuita tramite il link che trovate in descrizione, per conoscersi, ma soprattutto esporre qualsiasi dubbio voi possiate avere in merito, che è anche il momento migliore per chiedere se e in che mondo Fiscozen faccia per voi, che tipo di servizi possono assicurarvi, il consulente che vi segue sarà disponibilissimo ed è lì per questo. Dopodiché potete sottoscrivere il servizio e boom, avrete un commercialista a vostra disposizione che potete contattare con il mezzo che preferite, quindi telefono, mail, chat. E se passerete tramite il link in descrizione, avrete 50€ di sconto iniziale. L'utilità di avere una figura professionale così facile da raggiungere, credo di non dovervela spiegare, ma anche la dashboard di cui parlavo è estremamente utile. Da lì infatti si possono emettere le fatture anche in formato elettronico, senza limiti, si può avere una previsione delle proprie tasse in tempo reale, così da gestirsi le spese in maniera più saggia, non fate come nei primi anni che poi mi venivano gli infartini, e verificare velocemente le prossime scadenze, così da avere sempre tutto insieme e semplificarvi la vita. Quindi, lo sapete, link in descrizione, è arrivato il momento di aprirvi questa baniera partita IVA. Questo è il segno proprio, questo è un segno. Nel caso non è che dovete aprire la partita IVA perché ve lo dico io, lo dovete fare per il paese. Allora, dai, notizie. Allora, di fronte alla portata dell'attacco compiuto dai miliziani di Hamas verso Israele, la tensione si sta spostando ovviamente sulle mosse in risposta da parte delle IDF, l'esercito di Israele, e i confronti dei miliziani nella striscia di Gaza. In questo caso parliamo di una risposta che non si è fatta attendere, dato che l'esercito israeliano, così come accennato nella puntata di ieri, ha totalmente assediato la striscia di Gaza, un'area che è abitata da più di 2 milioni di persone, che c'erano stante si sono viste tagliare la fornitura di acqua, cibo e carburante, che è peraltro qualcosa che non è perfettamente compreso nella sua gravità. Non solo perché la striscia non è ovviamente autosufficiente, ma perché significa che moltissime persone sono all'oscuro di quello che accade, hanno i telefoni spenti, non hanno internet e stanno lì, senza informazioni, a osservare i bombardamenti sulle loro teste. Non benissimo. Gli attacchi aerei su Gaza hanno provocato danni e vittime, di cui è difficile al momento stimare un numero esatto. Fonti palestinesi, ancora nella giornata di ieri, lunedì, riportavano della morte di quasi 700 persone e di più di 35.000 feriti, numeri che aumenteranno prossimamente e che saranno ovviamente da confermare una volta che ci saremmo lasciati alle spalle le fasi più acute del conflitto. Cioè nonostante è innegabile che ci sia un problema enorme, perché secondo stime delle Nazioni Unite invece, sarebbero circa 180.000 le persone che hanno perso la propria abitazione nei bombardamenti. E parliamo ovviamente per la maggior parte di civili inermi, di famiglie e di persone in difese. Molto colpito è stato ad esempio il quartiere di Rimal, cui sede non solo dei ministeri del governo guidato Damas, ma anche densamente abitato, con presenti uffici delle organizzazioni umanitarie, di alcuni media. Insomma, è tutto un po' vicino a Gaza, è tutto un po' concentrato. E quindi quando bombardi una cosa, colpisci anche tantissimo la popolazione civile. Questi attacchi da parte di Israele, peraltro, sono in qualche modo particolari perché ignorano una pratica consolidata che è quella del cosiddetto double tap o roof knocking. Sostanzialmente quello che Israele ha sempre adottato come standard, un attacco di avvertimento che consiste nel lanciare i missili privi di esplosivo sul tetto dell'edificio e permettere così alle persone di fuggire e dall'erlole il tempo di evacuare, bombardandolo successivamente in modo da distruggere qualsiasi cosa si pensasse all'interno potesse rappresentare un pericolo. Questa strategia è molto nota ed era utilizzata in risposta alla tendenza di Hamas di nascondere armamenti e figure importanti in luoghi densamente abitati, così da scoraggiare gli attacchi israeliani. Ma alla luce delle novità, questa cosa si è iniziata a non farla più. Tanto che Hamas ha minacciato di giustiziare un civile in ostaggio per ogni attacco di questo tipo senza preavviso, minacciando inoltre di trasmettere e filmare queste esecuzioni, un po' come faceva l'Isis, e allontanando ogni ipotesi circa scambi di prigionieri finché proseguiranno le ostilità. Ovviamente lo capiamo bene, questo nuovo approccio è estremamente più devastante ed è più rischioso per la popolazione residente, perché se ti dice sfiga di abitare nel posto sbagliato al momento sbagliato, magari non ti avvisano più, magari semplicemente salti per aria. Ciò detto, l'assedio di Gaza ha permesso alle forze israeliane di riprendere gran parte del controllo dei confini sulla striscia, ma la risposta di Israele non finisce qui e sicuramente non finirà qui. Le dichiarazioni del primo ministro Netanyahu, rivolte alle forze di difesa del paese, di prepararsi un'offensiva ancora più massiccia nei confronti di Hamas, uniti al fatto che Israele ha deciso di arruolare più di 300.000 riservisti per combattere in questa guerra, ci suggeriscono come il paese si stia in qualche modo preparando a una massiccia operazione via terra, che significa di fatto una guerra, una vera e propria guerra, non soltanto missili e attacchi aerei, ma una guerra, in tutto e per tutto. Tutto questo ovviamente non può che avvenire con il beneplacito degli Stati Uniti, e peraltro proprio nella giornata di oggi è previsto l'arrivo degli aiuti militari promessi dal governo statunitense per sostenere le forze armate israeliane, una mossa che non solo si inserisce a livello diplomatico, cioè appoggiare la causa di Israele, ma può volendo essere parallelamente letta come minaccia verso tutti quelli che potrebbero pensare di voler intervenire in questo conflitto al fianco di Hamas, sostanzialmente quindi dicendo loro statevene buoni, statevene calmi, statevene al vostro posto e magari ipotizzo nella speranza di regionalizzare il conflitto ed evitare l'effetto contagio di cui parlavamo ieri, perché lì, lì se c'è l'effetto contagio e entra a un certo punto il Libano e la Siria e l'Iran, cambia tutto. Quello sarebbe il vero problema. Se questi sono gli aggiornamenti più importanti al momento in cui sto registrando di quanto sta accadendo a Gaza, c'è un'altra questione importante su cui riflettere. E non è Mia Khalifa, ex pornatrice libanese, che fa il tifo per Hamas e si fa per questo licenziare da Playboy, peraltro pessimo tweet in cui consiglia ai militanti di girare i telefoni e registrare in posizione orizzontale. Nel senso, farebbe ridere, però i video, cioè, stiamo parlando di video, non ci sta. Non veramente, no. Ma al netto di questo, un'altra cosa che stavo facendo discutere, dicevo, è come sia stato possibile che Israele, di fronte agli attacchi di Hamas, si sia trovato impreparato a rispondere e in qualche modo sorpreso di tutto quello che stava accadendo. E spoiler alert, non lo sappiamo, non lo sa nessuno, in realtà, per lo meno per adesso. Chi si è trovata più di tutti impreparata è stata l'intelligence israeliana, nello specifico lo Shin Bet, i servizi segreti interni, e il Mossad, che si occupa di sorvegliare i nemici esterni al paese. E per quanto l'intelligence israeliana in passato sia riuscita a sventare gli attacchi da parte di Hamas o altri gruppi che minacciavano in qualche modo il paese, quanto accaduto lo scorso fine settimana ha lasciato al palo i servizi di intelligence, dato che parliamo di un attacco che per sua intensità e organizzazione non si prepara in due giorni, e che necessita di una regia, di un ingente spostamento di armamenti, di persone, di denaro. Realisticamente, se avete mai organizzato qualcosa, qualsiasi cosa, un concetto, una cosa, saprete che è impossibile far funzionare tutto perfettamente, fare in modo che tutti facciano esattamente quello che devono fare, e quindi immaginate farlo anche nel silenzio più totale, cioè senza che nessuno dica nulla o faccia qualcosa che possa tradire le sue intenzioni. È estremamente complicato. Oltre all'intelligence, è lo stesso esercito israeliano ad essere rimasto sorpreso dagli attacchi, tanto che i miliziani hanno velocemente attraversato il confine, l'abbiamo detto, tra la striscia di Gaza e Israele, lasciandosi alle spalle pattugliamenti, telecamere, rilevatori di movimento, e la luce di quanto accaduto sorprende come negli ultimi mesi paia emergere come la sicurezza israeliana abbia anzi minimizzato le intenzioni di Hamas, ritenendo, a torto, che le attenzioni del gruppo fossero principalmente orientate ad azioni in Cisgiordania, territorio che Hamas, come è stato detto, contende con un altro importante protagonista della scena, cioè il partito più moderato Fatah. Peraltro la sensazione di invulnerabilità di Israele è in qualche modo crollata anche a fronte della tecnologia militare in suo possesso. Mi sto infatti riferendo ai suoi sistemi di difesa aerea, ai mitici Iron Dome, questa cosa qui, un potente mezzo militare che permette di intercettare razzi e distruggerli con facilità. Eppure, a questo sistema così efficace, l'abbiamo visto nuovamente in quest'ora dell'opera, non è riuscito a intercettare molti dei razzi lanciati da Hamas all'inizio dell'attacco. E anche di questa cosa si sta parlando tanto. Su questi interrogativi in futuro si giocherà probabilmente moltissimo del destino non solo di Israele, ma di molti dirigenti militari e dello stesso Netanyahu, che ha sulle spalle, se non responsabilità fattuali, molte delle responsabilità politiche di quanto accaduto, essendo il leader politico israeliano più longevo della storia. Quindi su questo staremmo a vedere. E questo è quello che sappiamo di ciò che sta accadendo all'interno di Israele e della Palestina in questo momento. Ma c'è un'altra cosa, cioè quello che sta succedendo da noi, in Occidente. Voglio riprendere una polemica che tra ieri e oggi ha avuto molto spazio e che ha a che fare con la supposta intenzione da parte dell'Unione Europea, poi smentita, di sospendere a causa dell'attacco di Hamas i finanziamenti relativi agli aiuti umanitari in Palestina. E credo valga la pena parlarne per capire sia il tenore del discorso politico in questi giorni, sia cosa significhi nel concreto vivere in un territorio che dipende quasi del tutto dagli aiuti internazionali. Ora, innanzitutto, le basi. L'Unione Europea finanzia effettivamente la Palestina? Sì. Questo vuol dire che supporta le milizie di Hamas? No. L'iniziativa di cui parliamo, infatti, è questa, lo strumento di vicinato sviluppo e cooperazione internazionale, che è sostanzialmente un programma interno all'Unione Europea finanziato al sostegno di paesi terzi in difficoltà. Parliamo di supporti all'educazione, al rispetto dei diritti umani, alla digitalizzazione, alla ricerca di impieghi lavorativi e così via. Strumento per il quale sono allocati in totale quasi 80 miliardi di euro, e che è poi lo strumento principale con cui l'Unione supporta anche economicamente lo sviluppo della Palestina. Per quanto, attenzione, non sia l'unico strumento, ne esistono anche altri, come ad esempio il progetto di protezione civile e aiuto umanitario, che fornisce invece supporto in situazioni di crisi sia naturali che non. Questo perché, a prescindere dal proprio posizionamento ideologico, la Palestina è a tutti gli effetti una regione che vive in una condizione di estrema precarietà. Ci sono tante persone che al netto di tutto sono poverissime. E per capirci, per darvi un'idea di quanto l'Unione ci vada coi piedi di piombo sulla questione, al netto dei finanziamenti, questo è l'asterisco di fianco al nome Palestina, che riporta a questa nota con cui l'Europa mette le mani avanti, precisando come non si tratti di una denominazione che implichi in qualche modo il suo essere uno Stato, che significa noi vi aiutiamo, vi chiamiamo Palestina, ma chiamandovi Palestina non riconosciamo lo Stato della Palestina, né che esista questo Stato della Palestina, non sappiamo cosa significa la parola Palestina. Però vi aiutiamo. Fate conto che i fondi vengono utilizzati in modi molto diversi, sia come supporto finanziario diretto, sia pagamento di salari, pensioni, spese sanitarie, ma anche assistenza ai rifugiati per l'avvio di programmi di sviluppo che consentano l'accesso ad acqua, energia. Sono aiuti che arrivano sia alla Striscia di Gaza, sia alla Cisgiordania, in modi ovviamente diversi a seconda delle necessità, e che comunque rappresentano una parte fondamentale della vita di queste persone, soprattutto nella Striscia, che di nuovo essendo isolata è particolarmente vulnerabile, perché sono due milioni di persone chiuse in uno spazio di terra così, con nessun contatto quasi all'esterno, con l'embargo. È ovvio che dipendano dagli altri. Con queste premesse è facile capire perché in molti ieri abbiano sollevato un sopracciglio quando Oliver Vaheli, il commissario per l'allargamento dell'Unione Europea e per le politiche di vicinato, abbia twittato come a fronte della brutalità verso Israele l'Unione avrebbe messo i suoi fondi dedicati alla Palestina, 691 milioni di euro, sotto completa revisione, sospendendo tutti i pagamenti, che con questa formulazione sembrava implicare anche quelli relativi all'assistenza umanitaria diretta. Questo ha quindi costretto la Commissione Europea, viste le immediate reazioni, immagino, a pubblicare a stretto giro una nota di chiarimento, precisando che sì, ci sarebbe stata una revisione del supporto europeo alla Palestina, ma con lo scopo di valutare se questi fondi avessero il potenziale per finanziare le organizzazioni terroristiche, chiaro riferimento alla MAS, specificando come l'assistenza umanitaria non sarebbe stata interessata. Fate conto che lo stesso Joseph Borrell, l'altro rappresentante per gli affari esteri europei, ha poi twittato a sua volta, chiedendo in maniera molto esplicita come il punire i palestinesi tutti sospendendo i fondi, sarebbe stato in realtà un danno agli interessi europei e un modo per rafforzare ancora di più il terrorismo. Perché ovvio, l'abbiamo detto spesso, più allontani, isoli, marginalizzi, fai sentire odiata una popolazione, ma si applica a ogni livello, dalle minoranze di un popolo alle periferie di una città, più quella stessa popolazione sarà spinta nell'orbita dell'estremismo e della militanza. E' fisiologico, gli esseri umani sono fatti così. Che sarebbe anche un ottimo trampolino di lancio sull'argomento welfare. Perché è importante investire sul welfare? Perché è importante non lasciare le persone ai margini? Perché è importante non creare degli immensi gap tra chi ha tanto e chi ha poco? Perché poi ti scoppia lo stato in mano. Però è argomento per un'altra volta. Eppure lo diciamo ogni puntata. Al netto di queste valutazioni, comunque, è ancora presto per determinare la natura di questa revisione dei fondi, che è realistico, avverrà in una forma o nell'altra, non fosse altro per la presa simbolica di posizione che rappresenta. E ne sapremo molto di più dopo la riunione dei ministri degli esteri europei prevista per oggi in Oman, che dovrebbe affrontare la questione tra i punti di discussione. Ma di nuovo, il punto è questo. Non importa quanto noi come Europa ci distanziamo dalla Palestina o quante bandiere d'Israele proiettiamo sui monumenti. La questione prescinde dalla nostra posa di posizione, che serve più come posizionamento interno che per altro. E soprattutto non fa nulla o quasi per cambiare o per avere un cambiamento diretto su una situazione che ormai, ormai, ha raggiunto un punto critico di non ritorno. E anche se non ci piace sentircelo dire, le uniche due realtà che a questo punto possono concretamente cambiare la situazione sono solo Israele e Palestina. E privare di aiuti la povera gente che nulla a che fare con la guerra e che la subisce e basta, sarebbe solo l'ennesima prova di quell'istintivo desiderio di vendetta che di nuovo ci caratterizza tutti come esseri umani. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, passate a dare un'occhiata a FiscoZen, se foste interessati, aveste una partita IVA, se stavate pensando di aprirla, l'aveste già aperta, passateci in genere, andate, fate domande, ottenete risposte. Giornalismo di cittadinanza, mi raccomando, non crede... Elon Musk, un saluto. E per il resto, grazie a tutti, breakingvitaly.club oppure descrizione, oppure link in questo momento a schermo se voleste darci una mano e finanziare il nostro lavoro. E per il resto, ci vediamo domani. Fate le brave e fate i bravi.